Sicuramente sì, io sto chiedendo da giorni alla Meloni di dire con chiarezza che succede in Italia dopo il 26, nel caso in cui lei dovesse essere chiamata a un incarico di responsabilità. Ho sfidato la Meloni a un confronto pubblico, ma non dice una parola chiara sulla campagna di vaccinazione. Invece la mia opinione è questa, la campagna di vaccinazione non è patrimonio di una parte, non è patrimonio di un ministro, di un governo, di un commissario straordinario, è patrimonio del Paese e tutti devono impegnarsi fortemente per dire che dopo il 26 non cambia la linea di fondo del governo, non cambia la linea di fondo dell'Italia e si continua con la campagna di vaccinazione, mettendo avanti il diritto alla salute e l'evidenza scientifica come due perni per gestire questa vicenda.